Nella scorsa lezione abbiamo analizzato la composizione dall'esterno all'interno di un muscolo scheletrico e abbiamo posto le basi per la comprensione del fenomeno della contrazione muscolare. Abbiamo osservato la sede della contrazione muscolare del muscolo scheletrico, la miofibrilla, e abbiamo visto che questa è costituita da vari sarcomeri disposti in serie, dove il sarcomero è l'unità funzionale strutturale della miofibrilla. Abbiamo quindi schematizzato come i miofilamenti spessi costituiti principalmente da miosina e i miofilamenti sottili costituiti principalmente da actina si organizzano nell'unità contrattile delle cellule muscolari scheletriche nel sarcomero. La lezione 99 è pertanto propedeutica per questa. Per capire la contrazione del muscolo scheletrico è necessario conoscere come è fatto un sarcomero ed aver analizzato la composizione delle molecole di actina e miosina. Vi consiglio perciò se non l'avete già fatto di andare a guardare prima quella e poi tornare qua. Fatto? Bene allora benvenuti nella trattazione della contrazione del muscolo scheletrico. Riprendiamo questa immagine la schematizzazione del sarcomero del segmento di miofibrilla compreso tra due linee z. Avevamo detto che in un sarcomero ci sono due emibande i costituite solamente di miofilamenti sottili e una banda A all'interno della quale avevamo distinto una zona fatta solamente di miofilamenti spessi la banda H e una zona di sovrapposizione tra i miofilamenti spessi e i miofilamenti sottili. Parlando di contrazione del muscolo scheletrico il concetto iper semplificato la versione breve della storia è che i miofilamenti spessi scivolano su quelli sottili ma forse rende meglio dire che sgranano quelli sottili muovendosi verso la linea z. Il sarcomero contratto rispetto al sarcomero rilasciato ha le due linee z più vicine. La banda H e le due emibande i sono meno larghe nel sarcomero contratto rispetto al sarcomero rilasciato. Ma approfondiamo vediamo la storia lunga il meccanismo è giusto un filino più complesso di così. Partiamo dal motoneurone o neurone motorio quando decidiamo di contrarre un muscolo scheletrico un motoneurone nel sistema nervoso genera un impulso nervoso. Questo dal corpo cellulare raggiunge la sinapsi chimica neuromuscolare o placca motrice. In una sinapsi chimica come visto nella lezione 97 la cellula presinaptica il motoneurone rilascia un neurotrasmettitore nello spazio sinaptico. Il neurotrasmettitore viene ricevuto da recettori presenti sulla cellula postsinaptica la fibra muscolare scheletrica. In ultimo ne deriva il rilascio di ioni calcio nel sarcoplasma. Ioni calcio che erano conservati nel reticolo sarcoplasmatico il reticolo endoplasmatico liscio della fibra muscolare che circonda le miofibrille costituite di molti sarcomedi in serie. Come visto gli ioni calcio si legano alla troponina e questo legame comporta lo scivolamento della tropomiosina dai siti di legame per la miosina presenti sulle molecole di actina globulare dei mio filamenti sottili. L'actina allora non ha più i siti di legame per la miosina bloccati e può legarsi a essa. Come detto ogni molecola di miosina presenta su ognuna delle tue teste globulari due siti di legame uno per la tp ed uno per l'actina globulare. In questa prima fase del processo ciclico di contrazione muscolare la testa della miosina è legata alla tp e al gruppo fosfato rimasti dalla contrazione muscolare precedente. Avviene allora il legame tra la miosina dei mio filamenti spessi e l'actina dei mio filamenti sottili e questo legame favorisce il rilascio del fosfato dalla testa della miosina su cui era legato. Ne deriva un cambiamento conformazionale della testa della miosina cioè una rotazione dell'angolo con cui la testa della miosina è legata all'actina globulare. Essendo quindi la molecola di miosina del mio filamento spesso legata tramite una molecola di actina globulare al filamento di actina il cambiamento di angolazione della testa della miosina determina un movimento di spinta detto colpo di frusta che permette alla miosina di spingere il filamento di actina verso il centro del sarcomero. Dopo il colpo di frusta viene rilasciata la molecola di ADP. Ora la fase in cui la molecola di miosina è strettamente legata alla molecola di actina e non ha più su di sé nessuno dei due prodotti di idrolisi dell'ATP cioè l'ADP e il gruppo fosfato viene detta stato di rigor. Questo stato dura solo pochi istanti ed è subito seguito dal legame dell'ATP sulla testa della miosina. Tra parentesi il famoso rigor mortis o rigidità cadaverica che avrete sentito nominare se come me siete appassionati di gialli non è altro che la fissazione dello stato di rigor. Fissazione dovuta all'esaurimento delle riserve di ATP successivo alla morte dell'individuo. Subito dopo il raggiungimento dello stato di rigor allora una molecola di ATP si lega alla molecola di miosina e la stacca dall'actina globulare. A questo punto l'attivazione dell'enzima ATP asi miosinica catalizza l'idrolisi dell'ATP in ADP e fosfato inorganico. ADP e fosfato inorganico che rimangono legati alla testa della miosina. L'energia liberata dalla reazione di idrolisi dell'ATP viene usata per ruotare la testa della miosina in un angolo tale da permetterle di legarsi nuovamente ad una molecola di actina globulare e di ricominciare il ciclo. Rilascio del fosfato colpo di frusta rilascio dell'ADP stato di rigor legame dell'ATP distacco della miosina dall'actina idrolisi dell'ATP legame della miosina con l'actina. La ritirazione di questo processo ciclico di legame tra miosina e actina colpo di frusta e distacco della miosina dall'actina genera la contrazione delle fibre muscolari. La contrazione contemporanea di più fibre muscolari genera la contrazione del muscolo nel suo complesso. Ora quando vogliamo rilasciare il muscolo, lo stimolo nervoso dato dal motoneurone che ha originato la contrazione muscolare termina. Gli ioni calcio vengono attivamente, cioè con utilizzo di ATP, riportati all'interno del reticolo sarcoplasmatico e questo risequestro permette alle molecole di troponina di liberarsi dagli ioni di calcio. Ne deriva che la molecola di tropomiosina torna nella posizione inibitoria del legame tra miosina e actina. Torna cioè a mascherare i siti di legame per la miosina presenti sulle molecole globulari di actina. Torna a inibire il legame tra actina e miosina. Pensate solo un attimo a quanto poco tempo passa tra quando decidiamo di prendere un bicchiere e portarlo alla bocca per bere e quando lo ripoggiamo. Vi rendete conto di quanto siamo tutti così straordinariamente organizzati? Ora un motoneurone non irrora una singola fibra muscolare ma irrora un'unità motoria. L'unità motoria è costituita da un motoneurone con la sua fibra nervosa efferente e dalle varie fibre muscolari innervate da quel motoneurone. Il numero di fibre muscolari controllate da un solo motoneurone dipende dal grado di finezza e precisione del movimento richiesto al muscolo che le contiene. Per movimenti precisi come quelli dei muscoli extraoculari ad esempio un motoneurone innerva pochissime fibre muscolari. C'è da specificare anche che fibre muscolari appartenenti a una data unità motoria si trovano frammiste a fibre muscolari facenti parte di altre unità motorie. Questo per consentire di distribuire meglio spazialmente la forza generata da una unità motoria. Per concludere parliamo un poco meglio del reticolo sarcoplasmatico l'organolo delle fibre muscolari che come detto serve da riserva di ioni calcio quando le fibre muscolari sono a riposo e ha il compito di rilasciare ioni calcio nel sarcoplasma quando arriva dal motoneurone uno stimolo nervoso per la contrazione muscolare. Il reticolo sarcoplasmatico è un organolo il reticolo endoplasmatico liscio delle cellule muscolari e circonda intimamente ogni miofibrilla formando una sorta di rete intorno a essa. Questa rete è costituita da tubuli longitudinali e da zone di collegamento variamente orientate in corrispondenza delle quali si formano sistemi di cisterne chiuse che danno origine alla cisterna fenestrata. A intervalli regolari poi i tubuli longitudinali confluiscono in cisterne trasversali chiamate cisterne terminali. Una cisterna terminale si trova a uno dei due lati di un tubulo traverso o tubulo T che a sua volta confina dall'altro lato con un'altra cisterna terminale. Le due cisterne terminali e il tubulo T centrale formano la cosiddetta triade. L'importanza della triade sta nel fatto che i tubuli T sono invaginazioni del sarcolemma, della membrana plasmatica della fibra muscolare e non fanno parte del reticolo sarcoplasmatico. I tubuli T allora sono espansioni, intrusioni della membrana plasmatica della cellula post-sinaptica all'interno di essa. Servono a propagare verso l'interno della cellula lo stimolo ricevuto dal motoneurone. Servono a portare velocemente l'informazione rilascia ioni calcio che dobbiamo muoverci fino alle cisterne terminali. Servono a velocizzare l'intervallo di tempo che intercorre tra il rilascio del neurotrasmettitore dalla cellula presinaptica e il conseguente rilascio degli ioni calcio dal reticolo sarcoplasmatico della cellula post-sinaptica. Direi che ci siamo. Prossimamente studieremo insieme anche il muscolo cardiaco e il muscolo liscio. Restate quindi connessi con me e con la biologia per completare il percorso e se vi va fatemi sentire che vi sono stata di aiuto con like e commenti. Alla prossima e buono studio a tutti!